lord brummel o del non farsi notare lord brummel che dell'eleganza aveva fatto la propria ragione di vivere aveva di essa un famoso concetto la suprema eleganza consiste nel vestire in modo che non si vengano notati d'onde la sua notorietà si sa che quando un amico incontrandolo gli diceva come siete elegante l'elegantissimo lord esclamava sgomento ma si vede forse qualche cosa e correva a cambiarsi è incredibile le pene che provava quando nelle cronache mondane leggeva notato tra i presenti lord brummel ne faceva un casus belli era tale la sua eleganza che a lungo andare i cronisti mondani finirono per scrivere nei resoconti dei ricevimenti e delle feste aristocratiche non notato fra gli intervenuti lord brummel benché ci risultasse presente ormai tutti sapevano che l'eleganza di brummel consisteva in questo e come sempre accade anche egli ebbe imitatori perché spesso nelle riunioni degli elegantissimi i cronisti dovevano scrivere in questa festa mondana non siamo riusciti a notare nessuno tanto erano eleganti tutti in quella specie di eleganza che consiste nel non farsi notare naturalmente anche fra gli imitatori lord brummel era quello che meno si faceva notare nessuno riusci mai a eguagliarlo in quest'arte difficile e raffinata non notato nessuno scrivevano solente i cronisti quanto a lord brummel addirittura impossibile scoprirlo quando l'elegantissimo si accorse che tutti più o meno limitavano su questo terreno riuscì a batterli con mezzi talvolta sleali un giorno per esempio in una festa a corte per non essere notato si nascose sotto una tavola che fa vostro onore qui? gli chiedevano i camerieri e lui non mi tradite sono qui per non farmi notare giunse a dei travestimenti nelle feste di rame si vestì talvolta da donna per passare inosservato se faceva il suo giro di beneficenza tra i poveri del rione per non essere notato si vestiva da pezzente quando si accorse che con questa storia di non farsi notare era diventato celebre fu per lui una mazzata sul capo dovunque andava sentiva mormorare quello è lord brummel guarda guarda come non si nota e tutti se raditavano bisbigliando è straordinario non si nota affatto quando usciva di casa la folla si stringeva intorno a lui per ammirare l'uomo che non si notava i codazzi di gente lo seguivano attraverso la città per godere lo spettacolo di lord brummel che passava inosservato questo fu il supremo trionfo dell'eleganza di lord brummel intesa non dare nell'occhio i cronisti scrivevano notato per il modo come riusciva a non farsi notare lord brummel brummel però non era felice teperiva non sapeva più come fare per non essere notato finì per non uscire di casa ma i familiari l'osservavano dava nell'occhio con quello starsene tappato in casa per non essere notato non si era a stare in letto col capo sotto le coltri la mattina il vecchio servitore gli portava la cioccolata dove è andato? non c'è il letto presentava un rigonfiamento sospetto eccolo! la brummel zitto! lasciava palpeggiare e non si muoveva è lui o non è lui? il servitore tirava via le coperte e brummel la pariva rannicchiato maledetto! borbutava mi ha notato vedendo che non riusciva a non farsi notare s'ammalò di crepacuore il medico lo notò morì la cosa non passò inosservata fu chiuso in una cassa per disposizione testamentaria la brummel dando ancora un'ultima prova di buon gusto aveva voluto che il funerale passasse inosservato la cosa incuriosì talmente che tutta londra era lì a vedere come riusciva bene a passare inosservato grazie a tutti